Monsignor Loris Capovilla, si è detto tutto secondo lei su Papa Giovanni XXIII, c'è ancora qualche cosa da dire? Recentemente io ho ricordato i dieci anni della beatificazione nel giorno proprio del suo compleanno, il 25 novembre, al clero e al seminario di Bergamo. E ho preso due momenti della sua vita, vent'anni e ottant'anni. Ho detto a vent'anni ha fatto il servizio militare, rientra, riprende i suoi studi in seminario, porta l'amarezza di tante cose che ha visto che sono le brutture di tutti i tempi. Ma il tempo attesso ha anche una grande simpatia, perché dice, mi è capitato una volta di trovarmi giovane militare, ventenne, vedevo un crocchio di miei compagni che ridevano sgangratamente. Io sono andato lì, curioso, che cosa avete da ridere? E un giovane, dice, calabrese, mi dice Roncalli, non sono cose per te, tu sei chiamato a essere prete e a salvare le nostre anime. Quel ragazzo riconosceva di essere fuoristrada, ma quanto è bello questo. E ha conservato per tutta la vita il ricordo di questo incontro con questo ragazzo. Poi dice, viene la prima guerra mondiale, va bene, e fa il cappellano militare, specialmente nella cura dei feriti. Incontro un ragazzo per tutta la vita ricordato, Menicuccio, era un ragazzo di 19 anni, aveva fatto la quinta elementare, figlio di contadini, un marchigiano italiano. E sto ragazzo arriva dal fronte, che è ferito grave, una setticemia, lo porta, il ragazzo si confida con lui e dice, signor cappellano, io non ho paura di morire, perché il sacco è poco pesante, non credo di aver fatto del male nella mia vita. Mi dispiace morire a 19 anni, però muoio volentieri se il mondo diventerà migliore. Papà e mamma si consoleranno, hanno altri figli. E dice, e lui il cappellano Don Angelo, oh no, no, Menicuccio, preghiamo la Madonna, vogliamo che tu rimanga. L'Italia ha bisogno di ragazzi come te. Poi il ragazzo muore tra il braccio del suo cappellano. E Don Angelo lo raccontava, papà, si è buttato in ginocchio, ha detto, signore, finché l'Italia avrà ragazze come questi, non potrà morire. Puella dormit, non est mortua. La bambina, come alla casa di Jairo, non è morta ma dorme, dobbiamo risvegliare, questa è la nostra speranza. A vent'anni e a trent'anni ragiona in questa maniera e scrive, dice, il prete deve essere come un globo di cristallo. Parla dunque della castità, parla dell'umiltà e della carità ed è preoccupato della salvezza dei suoi compagni. Non è spaventato di questo, dice, gli dobbiamo amare e con l'amore possiamo fare qualche cosa. A 80 anni, chi sappia, io questo è un caso unico, si prepara con un corso di esercizi spirituali al compimento di suoi 80 anni, col suo padre spirituale, col suo confessore. Il primo giorno comincia col dire, ho fatto di nuovo la mia confessione generale. Confitto erodeo onipotenti e comincia col dire, circa castitatem, non ho niente, niente in tutta la mia vita, nulla, nulla, mai. Gesù non ha permesso che io fossi toccato in questo. Obedienziam, non ho mai provato neanche la tentazione a disobbedire, non ho neanche merito, ho sempre obbedito nella mia vita. Caritatem, circa la carità, ma questa è la virtù che amo di più perché Gesù me l'ha raccomandato. Umilitatemi, io sono una povera creatura, Gesù mi ha dato tanto, mi ha dato tutto. E dico, noi preti dovremmo pensare a questi parentesi. La giovinezza immacolata, la vecchiaia senza alcun rimorso. Darsi completamente a Dio in questa maniera all'umanità. Ho detto prima le parole di Teilhard de Chardin, non si converte se non ciò che si ama. Lui ha amato immensamente il suo paesello, la sua famiglia, i suoi comparrocchiani, la sua Italia, il mondo intero. Quando gli hanno domandato, ha fatto Papa, in una delle prime interviste che un Papa ha dato, Santità, lei è bergamasco ma però è stato a Roma, è stato in Bulgaria, in Turchia, in Grecia, in Francia, ha girato nell'Africa del Nord, ha girato tutta l'Europa. Dov'è che si è trovato meglio? E ha risposto subito, dappertutto. Perché dove ho messo i piedi, ho messo anche il mio cuore. La grande reazione questa. Se fosse qui oggi, Papa Giovanni, secondo lei che cosa lo amareggerebbe e che cosa invece lo rallegherebbe particolarmente? Intanto voglio premettere questo, che a me domandano spesso anche in tutti i problemi di teologia, di storia, di liturgia, di morale. Che cosa direbbe Papa Giovanni? Io dico a tutti niente, non è mica Papa lui adesso. La divisa della sua vita è obbedienza e pace. Ho obbedito tutta la mia vita, il Papa è uno solo, direbbe quello che dice Benedetto XVI. Mi pare che questa sia una grossa reazione ad accogliere tutti noi. Non è bello, se il mio Papa è questo o quello, fa un nome. No, il tuo Papa è quello che la Providencia ti ha mandato adesso. Tu lo devi amare, riverire, devi obbedierli, sentirti unito con lui. Altrimenti doveva finire l'unusint, che è l'estremo palpito del cuore di Gesù. Adesso, credo, lo rallegherebbe il vedere anche questo fervore di attività che c'è. Noi ci lamentiamo continuamente, ma ditemi un po', l'editoria cristiana, libri, giornali, è diminuita o aumentata? Ci è precluso comunicare con il mondo, con i mezzi nuovi e di viaggiare, di muoverci? Il Papa Giovanni, ricordo poco prima di morire, che mi ha detto, dice, hanno detto che io non sono mai andato in aereo, che il Papa... No, io sono andato quando gli altri non ci andavano, con degli sgangherati aerei durante la guerra. Quando sono andato in Francia, sono andato con un aereo che mi hanno dato bottiglie di acqua calda perché eravamo da morire del freddo. È ben sicuro che il Papa non solo adesso esigerà che i Vescovi vadano a Roma, vengano a Roma, visita da Limina. Non sarà obbligato, lo deve fare lui di sua libera, nessuno glielo può imporre, ma è sicuro che il Papa prenderà l'aereo, viaggerà in tutto il mondo. Si è avverato immediatamente con Paolo VI, con Giovanni Paolo II, con, beh, detto, XVI. Un'apertura piena di servizio. Anche Giovanni Paolo I, per pochi trenta e tre giorni, ha detto, io andrò in giro per il mondo. Voglio che i Vescovi mi parlino perché voglio conoscere questa terra, questo mondo intero che Gesù mette anche nel mio cuore, insieme con i miei fratelli Vescovi. Servire, amare, sacrificarmi. Papa Giovanni direbbe, ma c'è un grande fervore. Ma non è vero che siamo alla fine. Mi hanno detto una volta, un cardinale mi ha telefonato, ma è vero che lei ha cambiato il suo motto Vescovine, che ho rubato a Papa Giovanni, obbediense ete paxe, no, amminenza. Ho detto solo che se mi facessero Vescovo adesso, invece che obbediense ete paxe, tirandolo via a Papa Giovanni, metterei tantum aurora est, cioè la parola che Papa Giovanni ha detto il giorno dell'apertura del Concilio ai Vescovi. Siamo qui tutti, abbiamo celebrato una grande giornata di pace. Siamo felici del cammino che abbiamo intrapreso, però non facciamoci illusioni. Siamo alla prima ora del giorno, che io traduco. Siamo alla prima ora dell'evangelizzazione e della civiltà che da Cristo prende nome e linfa vitale. Davanti a noi ci sono i secoli e i millenni. Tantum aurora est. Grazie.